Giovanna ha un viso ovale, carnagione rosea e occhi verdi. Durante la consulenza Giovanna ha espresso due desideri accorciare i capelli e dare più luminosità al colore. La nostra scelta per quanto riguarda il taglio è stata quella di effettuare un bob con diagonale anteriore molto alleggerito all'interno proprio per garantire la massima praticità nella gestione della piega a Giovanna. Per quanto riguarda il colore la nostra scelta è stata quella di effettuare Blonde Experience. Abbiamo schiarito i capelli tonalizzati su nuance che dessero luminosità e armonia ai suoi colori. Il risultato ha dato piena soddisfazione a Giovanna.